Ciao a tutti ragazzi, sono DJ Razzelix e bentornati su Uncharted 4. Oggi parlerò di un trofeo nascosto, siamo parlando del trofeo spadacino. Come potete vedere, alla fine del gioco affronterete il Wraith in un duello con la spada. Per ottenere questo trofeo dovete pagare tutti i suoi colpi e quindi evitare di essere feriti anche solo una volta. Per quanto riguarda l'incontro, vi dico che l'incontro ha più checkpoint, quindi se magari riuscite a raggiungere un checkpoint senza essere feriti e in quello successivo venite feriti, ricaricate l'ultimo checkpoint e il trofeo ve lo dà lo stesso. Vi ricordo che per parare potete utilizzare il tasto triangolo per quanto riguarda gli attacchi da sinistra e il cerchio per quanto riguarda gli attacchi da destra. Vi ricordo anche che comunque una volta che avete finito il gioco è possibile affrontare tutti gli scontri avvenuti nello stesso gioco e quindi anche lo scontro con Wraith. Quindi lo potete ripetere tutte le volte che volete. Altra cosa, il consiglio che vi do è di affrontare questo scontro a esploratore perché Wraith darà i colpi in maniera molto più lenta in modo che comunque voi possiate vedere se colpire da destra o da sinistra. Insomma per rendervi le cose un attimino più facili. Per questo trofeo è tutto e ci risentiamo al prossimo trofeo di Uncharted, il vostro DJ. Un'altra cosa, il vostro DJ. Un'altra cosa, il vostro DJ. Un'altra cosa, il vostro DJ. Grazie a tutti